Tempi da Lupi Tempi da Lupi E quindi vi devo dire che prima di parlarmi con voi ho dovuto calmarmi andando a spiaccicare pulcini in una fattoria perché è l'unico modo che conosco. Ebbene la parola di questa sera è buonista. Buonista è un termine che già solo a farlo crea un caos folle stile tonnara o stile area di rigore del Cagliari. Ebbene cerchiamo di mettere ordine partendo dal principio, partendo cioè dall'ABC. Che vuol dire buonista? Allora vediamo insieme. Per la Treccani la definizione riguarda l'ostentazione di buoni sentimenti di tolleranza e benevolenza verso gli avversari e tutto il resto. Partendo per quanto riguarda gli uomini della politica. Quindi sostanzialmente è un sentimento positivo, è appunto un sentimento di benevolenza. Ed è un sentimento, o meglio un termine, che è di recente applicazione nella nostra lingua. Ovvero nel 1995 se lo inventò Ernesto Galli della loggia, noto corsivista del Corriere della Sera. Perché laddove nei film di Fantozzi c'era la famosa grande azionista, la Cerbelloni Mazzanti vien dal mare. Noi abbiamo riparte da 72 metri l'Ernesto Galli della loggia. Insomma ognuno ha i cognomi che si merita. Ed era una cosa normale, un termine che veniva utilizzato fino a un certo punto per indicare a qualcuno che aveva un atteggiamento positivo nei confronti di uno che è considerato avversario e non nemico. E fino a lì andava tutto bene. Se non fosse che dopo un po' si è iniziato a utilizzarlo in senso dispregiativo. Ora, usare un termine che nasce in senso positivo, in modo dispregiativo, di per sé, non è particolarmente una novità. Ecco, voglio dire, poi io personalmente sono cresciuto leggendo solo offese alte, dotte, anche utilizzando parole desuete, con Topolino. Vediamo insieme qualche esempio. Questa discussione buffone, prepotente, stramboite, brutto, oppressore, babbeo. Insomma, oppure vi faccio vedere un altro esempio ancora. La tua ignoranza crassa farebbe impallidire un cerco piteco. E a proposito di utilizzare in senso negativo parole che nascono come positive, tipo la parola eroe, vediamo questa vignetta bellissima, incapace, babbeo, eroe della deficienza mentale. Ora, fino a che si trattava di farne questo uso, ripeto, a me andava bene. Se non fosse che si è iniziata a ribaltare la prospettiva. Cioè, usare il termine buonista, non solo in maniera dispregiativa, ma anche per indicare un distacco da quella visione del mondo e definirsi cattivisti. È diventato un caos unico, come vi dicevo all'inizio. Vediamo insieme, sono parecchi titoli giornali che marciano su questa espressione. Ebbene, si usa il termine buonista come a dire una cosa del genere. Basta con questi immigrati, basta con questo buonismo verso gli immigrati, impediamogli di sbarcare in Italia, impediamogli di venire a giocare nel Milan. Oppure, basta con il buonismo con gli omosessuali, rendiamogli la vita difficile, non vendiamogli più i dischi di Madonna o i poster di Grace Kelly. E cose del genere, basta con il buonismo verso i politici, bisogna essere cattivisti, particolarmente con i politici che sono assenteisti. Me ne viene uno in mente, ma non ricordo il nome. Ebbene, questa questione del buonismo è diventata sinonimo di essere politicamente corretti. E il lato opposto, l'altra faccia della medaglia, è essere politicamente scorretti. Ecco, oggi si rivendica particolarmente questa cosa di essere particolarmente scorretti. E questo in realtà non fa che arricchire il caos. Intanto ci sono degli articoli che trattano proprio questo argomento seriamente, dicendo i conformisti del politicamente scorretto. Perché se tu sei sempre politicamente scorretto, non stai facendo niente di nuovo. Ma a parte questo, anche questo termine va utilizzato bene. Dico io, politicamente scorretto è il film in nome del popolo italiano di Dino Risi, dove un magistrato indeggerimo di sinistra va a distruggere le prove dell'innocenza pur di far condannare un imprenditore mezzo fascista, corrotto, quindi già di per sé odioso. Ecco, quello è politicamente scorretto. Se tu invece dici le cose contro gli omosessuali, contro gli immigrati, cose che metà della popolazione condivide, non stai facendo più qualcosa di politicamente scorretto. Anzi, è correttissimo, lo pensano tutti. Insomma, è facile a dire che Topolino è odioso. Anche questo lo pensano e lo sanno tutti. Se vuoi essere politicamente scorretto, devi dire che Topolino è bravo e che quello odioso è paperoga per il suo uso di droghe pesanti. Infatti, vediamo anche qui una vignetta dove trovare un negozio di cannone aperto a quest'ora. Si chiede paperoga e il cugino risponde, o a qualsiasi altra ora. Ecco, in una condizione del genere il caos viene alimentato anche da come viene veicolata l'informazione attorno al termine buonista. Non so se vi ricordate il disastro di Utoglia, se non mi sbaglio. Comunque, la strage fatta dall'estremista Breivik. Ebbene, i giornali diedero il meglio di loro stessi in quei giorni, in quel periodo. Subito dopo la strage, il giornale pubblicò questa prima, sono sempre loro, ci attaccano sostanzialmente gli islamici, con un bel riferimento anche a Bin Laden. Si accorsero per tempo che Breivik, l'estremista di destra, che come loro ce l'ha con gli islamici, per cui non era più il caso, pubblicarono una prima pagina correttiva, che vediamo anche questa insieme, medesima foto, attacco sanguinoso, strage in Norvegia, Oslo come fosse in guerra. Ecco, qualche d'uno non ha fatto in tempo a correggere, qualche d'uno ad altre tempistiche evidentemente di chiusura e libero, titolò in questo modo. Con l'islam il buonismo non paga, Norvegia sotto attacco, un massacro. Ecco, sapete chi la pensava così che con l'islam il buonismo non paga? Breivik, che infatti per non essere accusato di buonismo ha ucciso un'ottantina di persone. E quindi sicuramente meritava un titolo del genere. Ebbene, ci sono anche dei precedenti storici riguardo questo uso di un termine positivo in chiave negativa da attribuire a qualcuno che si considera nemico. Ad esempio il famoso pietismo. Cos'è il pietismo? È un termine introdotto nel giornalismo italiano dopo il 1938, quando nei giornali si utilizzava questa informazione, chiaramente di caratura, durante il ventennio fascista, e si diceva che si ha troppo pietismo nei confronti degli ebrei. Vediamo insieme uno scorcio di giornale dell'epoca, che vi vado anche a zoomare lentamente. Ecco qui, il pietismo per gli ebrei di un giudice del canton Ticino è una documentata risposta. E sotto l'articolo si chiede, ma chi ha pietà per le vittime degli ebrei? Quindi voglio dire, voi che utilizzate in questo modo il termine buonista, buonismo, eccetera, non vi state inventando niente di nuovo, niente che non sia già stato utilizzato. Ora, ci sono varie soluzioni che qualcuno ha prospettato per la risoluzione di questo utilizzo distorto di un termine che nasceva con un altro senso. Saviano, ad esempio, ha suggerito di abolire questa parola dal linguaggio pubblico. Basta con il termine buonismo perché non ci si capisce più niente. Qualcuno invece dice che bisogna rivendicare l'essere politicamente corretti. Oggi la vera rivoluzione è essere normali, come diceva Lucio Dalla, o meglio essere politicamente corretti. Qualcun'altro addirittura dice che la carbonara è buona anche se ci si mette la pancetta, la vediamo insieme, e non il guanciale. Voi vi starete chiedendo, ma cosa c'entra questo? Non c'entra niente, ma secondo me faceva bene parte dell'elenco, suonava bene. Ora, io non condivido queste idee. Nel senso, eliminare una parola dal linguaggio pubblico non risolve la questione. Direi semplicemente che bisogna tornare a utilizzarla bene. Utilizzare bene il termine buono, il termine cattivo. E poi non mi piace neanche questa divisione, come se fosse una lavagna con i buoni e i cattivi, come all'elementare. Bisogna sempre contestualizzare. Ad esempio, fare un furto è cattivo, però farlo perché il tuo figlio non riesce a mangiare, non arrivi alla fine della settimana, non è poi così cattivo. Potrebbe anche essere buono. Fare gol è buono, ma se lo fai nella tua porta, particolarmente perché ti sei venduto la partita, ecco, è cattivo. Insomma, utilizzare questo ragionamento ci permette di arrivare alla conclusione che ho immaginato, quella di applicare il criterio, il principio del does not mean, che vuol dire non implica, non significa. Per cui, buonista does not mean pappa molle. Politicamente scorretto does not mean figo. Di per sé figo does not mean ricosta, perché, ricordiamolo, uno giocava nel Real Madrid, uno giocava nel Milan. Insomma, utilizziamo questo criterio e per me potremmo tornare a utilizzare bene la parola buonista. Se proprio non condividiamo questa visione del mondo, è lecito per carità, io vi invito, se proprio dovete utilizzare un termine dispregiativo nei confronti di qualche d'uno che ha un atteggiamento di umana pieta, se dico io, nei confronti di chi è più sfortunato, ebbene, vi invito a utilizzare un altro termine. Il termine lo vediamo in questione, il termine in questione lo vediamo insieme, ed è sosquaccista. Dite, ma come sosquaccista? Non vuol dire niente. Ebbè, comunque è utilizzato già meglio di buonista. E con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo termine distorto. Grazie a tutti.